Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare un'altra recensione di un film che è da poco uscito in streaming che è Io sono Babbo Natale, ero uscito circa un mesetto fa al cinema, non ero riuscito a vederlo e l'ho visto adesso in streaming perché era un film che mi incuriosiva molto eccessivo, però mi incuriosiva, mi interessava vederlo per un motivo molto semplice perché era l'ultimo film interpretato da Gigi Proietti, il film è diretto da Edoardo Falcone che è un regista sceneggiatore che si è cimentato tantissimo con la commedia prima come sceneggiatore, ha scritto tante commedie e di recente come regista e questa è un'altra commedia che mette insieme appunto per l'ultima volta, per l'ultima volta lo vediamo in streaming, era sul grande schermo un'icona come Gigi Proietti, un attore che adoro e che è stato veramente un punto di riferimento non solo per il cinema ma anche, forse direi anche soprattutto per la tv, per il modo di fare spettacolo perché è il teatro, insomma, perché è nei campi dove ha ottenuto maggior successo, mentre al cinema secondo me il cinema non è riuscito a dargli quello che meritava perché è un attore stratosferico e al suo fianco abbiamo Marco Giallini, siamo a Roma, ai giorni nostri, Marco Giallini interpreta Ettore che è un delinquente appena uscito dal carcere, era stato condannato per diversi anni di carcere ma durante la galera non ha mai detto il nome di complice, è sempre stato muto e allora per finita la pena ritorna a vivere ma purtroppo nella società non ha un ruolo, non ha un lavoro e quindi ricomincia a fare quello che sapeva fare meglio ovvero rubare, tenta di andare dai suoi vecchi colleghi, tra virgolette, ma li ottiene solo calci, pugni e insulti quindi non può ottenere neanche i soldi che gli spettano, allora riprende a rubare nelle case proprio per campare e in uno di questi furti entra nella casa di un signore ben composto, molto educato, dei modi assolutamente gentili che si chiama Nicola, interpretato da Gigi Proietti appunto, il quale gli rivela di essere Babbo Natale all'inizio ovviamente Ettore non ci crede, penso sia una follia di un vecchio rimambito ma si dovrà ricredere perché una volta indossata la cintura, il vestito di Babbo Natale soprattutto dopo essere salito sulla slitta scoprirà veramente che è Babbo Natale da qua inizia un'amicizia un po' particolare perché grazie all'incontro con Nicola, appunto Babbo Natale Ettore cerca di redimersi, di iniziare una nuova vita anche se l'opportunità di essere al fianco di Babbo Natale sarà l'occasione per lui in realtà di utilizzare alcuni strumenti di Babbo Natale per compiere altri furti nel mentre cerca anche di redimersi nei confronti della donna che amava e di vedere per la prima volta perché quando è andato in carcere suo figlio era appena nato e quindi dopo diversi anni il figlio ha se non sbaglio 8-10 anni vuole anche conoscere suo figlio ma giustamente l'ex moglie di Ettore si è rifatto una nuova vita, si è fatto un nuovo compagno e quindi non ne vuole assolutamente sapere in tutto questo in realtà il rapporto tra la sua ex compagna e il suo attuale marito non andranno per il verso migliore e quindi in questo contesto Ettore potrà dir la sua per giungere a un finale che in un certo senso è un finale happy ma non come potreste pensare perché no, in realtà non ve lo dico perché non voglio fare spoiler ed è una delle poche cose che mi sono piaciute di questa commedia che lo dico onestamente non funziona non funziona un po' per la storia molto semplice, abbastanza lineare da un punto di vista scenografico, ben curato, ben realizzata perché poi nel conoscere Babbo Natale, nel conoscere gli strumenti che usa conosceremo anche gli aiutanti di Babbo Natale della sua, chiamiamiamola così, Tana, Segreta dove ci sono tutti i regali che spedisce che fa spedire anche dai suoi aiutanti quindi da quel punto di vista è anche carino è anche piacevole l'umanità che emana il film, buoni sentimenti senza essere troppo smielato troppo buonisti sono secondo me dei buoni tentativi però il punto di forza su cui si basa il film è l'alchimia tra Marco Giallini e Gigi Proietti e secondo me questa alchimia non funziona tanto bene mi sono chiesto il perché benché tutti e due gli attori sono attori molto bravi nel senso le parti erano nelle loro corde ma è la sintonia tra loro due secondo me perché il film non è scritto tanto bene è piuttosto, diciamo così, sempliciotto, banalotto non dà profondità agli stessi personaggi le dinamiche sono un po' qua e là bozzate non c'è il giusto anche sguardo tra di loro sembra quasi non fossero convinti della parte che stessero interpretando e secondo me si sente nel risultato finale del film che dura più o meno 90-100 minuti quindi una durata diciamo canonica della commedia ma questa alchimia, questo punto unire due attori romani di Roma che conoscono benissimo la città uso e costumi perché il film è decisamente e d'altronde essendo ambientato a Roma romano-centrico ma anche le dinamiche nella casa o anche i tentativi da parte di Ettore di recuperare l'amore perduto sono non solo già visti sono scritti in maniera semplice e secondo me nel risentere il film che partiva da un'idea anche carina simpatica giustamente in clima natalizio quindi in corda con quel periodo ma come poi tutto viene sviluppato il fatto che a un certo punto il film vuole avere anche un po' che è un po' un'abitudine che ultimamente neanche tanto ultimamente si sta inserendo nel cinema italiano cioè di tingerlo un po' sempre a crime un po' da storie da criminali e quindi il voler inserirne nella storia anche la banda di cui faceva parte prima Ettore che entra nella storia che si scontra quindi con Babbo Natale insomma mi è sembrato un po' un mezzo pasticcio un mezzo pasticcio che sinceramente non mi è piaciuto e la cui visione non è così entusiasmante ma anche lo stesso Gigi Proietti non è così brillante come lo conoscevamo è un personaggio abbastanza diverso anche quando è Babbo Natale non è così a parte qualche momento un paio di momenti in cui racconta una storia a cena tutti insieme seduti e tutto quanto ho trovato anche l'idea che Babbo Natale fondamentalmente vuole smettere di essere Babbo Natale e cerca un erede ecco anche questa idea non è che ho trovato così brillante e scritta così bene da un punto di vista di regia devo dire che Edoardo Falcone riesce a dare una certa mano una certa impronta al film però si sente la debolezza della storia e ripeto l'unica cosa che mi è piaciuta mi ha convinto che è una scelta anche abbastanza tipica sul finale su come far finire o riprendere o iniziare una storia d'amore e insomma e anche come il personaggio di Ettore si comporterà suo malgrado quella l'ho trovato un'idea diversa dal solito e quindi da apprezzare tutto il resto del film insomma non mi è piaciuto granché questo volevo dire in merito appunto io sono Babbo Natale in uscita in questi giorni in streaming su Amazon Prime e che direi d'altro niente questa è la mia recensione su io sono Babbo Natale vi saluto e alla prossima